Per oltre due ore l'ex fidanzato e ancora convivente di Manuela Bailo, la 35enne bresciana scomparsa da quasi due settimane, è stato ascoltato dal sostituto procuratore di Brescia Francesco Milanesi, titolare dell'inchiesta. Matteo Sandri, che ha confermato che la relazione con la giovane ormai finita da quasi due anni, ha risposto alle domande ed è stato sentito come persona informata dei fatti. Ha ricostruito le giornate di sabato, domenica e lunedì, quando ha ricevuto gli sms di Manuela, che sabato e domenica ha detto sarebbe rimasta a dormire al lago, mentre lunedì sera, che era in compagnia dell'amica Francesca. In realtà la giovane bresciana non è mai andata al lago di Garda, dove la famiglia ha una casa rivoltella e neppure dall'amica Francesca. Sandri è stato l'ultimo a ricevere sms da Manuela alle 21.51 di lunedì sera e anche l'ultimo ad averla vista attraverso le telecamere di videosorveglianza installate in casa. Riprese che si riferiscono al tardo pomeriggio di sabato, quando Manuela era in casa da sola, mentre l'ex fidanzato era al lavoro. L'uomo è dipendente di un negozio di elettronica in un centro commerciale della provincia di Brescia. La procura di Brescia sta lavorando per far luce sulla scomparsa di Manuela Bailo, che ormai manca da sabato 28 luglio, quando è stata vista per l'ultima volta proprio dalle telecamere dell'abitazione, dove vive con l'ex fidanzato. Sono stati anche ascoltati i colleghi del CAF UIL di Brescia, dove Manuela Bailo lavora. Gli inquirenti hanno inoltre ritenuto inattendibili le segnalazioni ricevute nelle scorse ore dall'uomo, che aveva detto di averla vista a Taranto, allo straniero che ha raccontato di averla incontrata domenico pomeriggio in un parco di Via Milano a Brescia. I periti nominati dalla procura stanno ricostruendo il traffico telefonico, per capire se sia stata effettivamente la giovane a mandare fino a lunedì sera sms a parenti amici e all'ex, o se come pensa la famiglia che teme il peggio, i messaggi siano stati scritti da altri che si sono impossessati del cellulare di Manuela Bailo.